bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maulo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori miei, allora prima di partire dal video ragazzoni notizie importanti, uno come avete letto dall'intro dell'intro abbiamo avuto problemi con l'audio anche in questo episodio raga, quindi purtroppo io in questo momento sto ridoppiando il video che state vedendo perché ho perso completamente il file audio di qua, l'ho perso completamente tutto, ragazzuoli prima però di lasciarvi col video che vedrò come arrangiarlo io vi ricordo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il sostegno che date e darete a questa serie, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maulo941 sia su Facebook che su Instagram, il link è in descrizione e se volete supportare questa bellissima serie delle sette, potete farlo tramite delle piccole donazioni, tramite pepoli in cui trovate anche il link in descrizione anche in questo caso, detto questo ragazzoni partiamo con il video ok raga noi siamo alla partita contro il, non ho visto, sono troppo veloce, stiamo già nella formazione, veloce, così, così, allora stiamo sistemando la formazione per affrontare la prossima partita, tutte lo mettiamo via, che tutte non ce le gioca, manco una con noi, c'ha solamente il nome, tutte, del resto non fa nulla, stiamo sostituendo vari elementi della rosa, sta succedendo qualcosa di interessante, stiamo facendo droll, droll, ah droll, questo mi ricordo, questo l'abbiamo soprannominato il piccolo drollo, il piccolo drollo signori miei, sì perché è un nome impronunciabile, quindi vai così, in porta lasciamo McKinley, dopo di che possiamo partire, ok, scendiamo in campo ragazzoni, rivediamo contro chi giocavamo perché non me lo ricordo minimamente, contro il Peterborough, 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 loro vengono da una sconfitta contro il Colchester, noi che ci fanno? Tadadam, botta precisa, ah no vinciamo, perché ricordo cose strane, ricordo cose strane, e va bene, e niente, forse un piccolo qui, un piccolo qui, andiamo a vincere raga, vittoria importante, vittoria importante, dagli così, dagli così, prima vittoria contro il Peterborough, contro il Peterborough, non lo so, fate voi, ok, detto questo penso che possiamo avanzare, ma un lo avanza, bravo, visto io parlo e lui lo fa, io parlo e lui lo fa, chi si fosse messo in contatto solo adesso, o per caso è arrivato a questo punto del video, ricordo che in questo momento sto ridoppiando il video raga, perché tutte, l'offerta per tutte raga, qui ricordo che mi è dispiaciuto, qui ricordo che mi è dispiaciuto tanto, perché tutte era la nostra mascotte, ma è giusto che tutte le vada a giocare tutte da un'altra parte, quindi ce lo vendiamo e gli auguriamo tanta buona fortuna, sperando che accettino l'offerta, chi se lo viene a prendere. Detto questo, avanziamo con il calendario, ripeto, chi sta vedendo adesso il video, magari è andato avanti veloce, io sto ridoppiando l'audio del video che state vedendo, perché ho perso completamente il file audio raga, quindi invece di fare come ieri che ho messo la musica in alcune parti, in alcune parti perché in alcune parti c'era il parlato e in alcune parti no, qui ho perso completamente l'audio, quindi mi sto, mi dovete scusare tantissimo, ma ci sto quantomeno riprovando a ridoppiarlo, vi verranno fuori una cosa terribile peggio dei peggiori film horror praticamente, però ci stiamo provando raga, ci stiamo a fare due tre risate. Allora, leviamo Harwood e mettiamo dentro il nostro Hamilton che tra l'altro domenica ha corso pure in Australia con la Mercedes e ha vinto, quindi bravo Hamilton che fa il doppio lavoro, fa il pilota di Formula 1 e il difensore centrale da noi, quindi da ammirare Hamilton. Abbiamo preparato la formazione di giocare contro il Gilcam, Gilcam, giusto, loro vengono da una sconfitta contro il Colchester, oh ci stanno a perdere tutti col Colchester, noi che c'è famo? Botta, 2-0, bella così, doppietta di Nicholson se lo sbaglio, non vedo niente, l'altro ce lo schermo piccolo, ma sto secato raga, c'ho una certetà, no, Nicholson, doppietta sua, sono usciti Raid e Claudio e va bene, non mi ha fatto leggere altro, il maullo del passato già è andato avanti, cioè in questo momento c'è il maullo del passato che sta giocando e il maullo del presente che sta commentando, cioè vedete che passaggio temporale al quale vi sto portando raga, chi è che si lamenta? Harwood si lamenta, zio, giocherai, non ti preoccupare, dai è così, giocherete tutti raga, andiamo a fare gli allenamenti, quindi vedete che passaggio temporale che vi sto regalando raga. Qui un messaggio per, ora non ricordo di preciso, però so perfettamente che c'è un difensore che si sta allenando come con degli allenamenti da centrocampista, non mi ricordo, ma purtroppo io già sono andato avanti con degli episodi raga, quindi sia in questo che nel prossimo vedremo questo tipo di allenamento, prometto che nell'altro ancora raga, quello che uscirà mercoledì, giovedì, venerdì, venerdì, no giovedì, giovedì prometto che sistemerò questa piccola situazione. Allora signori, questa è una partita fondamentale, ovvero la Carabao Cup, che andiamo a giocare contro i Wolf, i Wolf contro i Lupi, che signori mei, non avevo nessuna possibilità di passare il turno, ma proprio neanche se li dopavo tutti da 1 a 100, tutti quanti, non avevo nessuna possibilità, quindi ho preferito cambiare totalmente la rosa raga, far giocare i cosiddetti panchinari in modo tale da far riposare i nostri 11 titolari, facciamo giocare Vaz pure forse, no non lo so, sì, forse gioca pure Vaz, sì, boh, non lo so, e da sostituirli tutti, forse in modo tale da far riposare i nostri 11 titolari e tenerci pronti per la prossima partita in campionato, perché so perfettamente che non avevamo nessuna possibilità contro il Wolf, anche schierandoli tutti i migliori di passare il turno, quindi in questo momento sto completamente rivoluzionando tutta la rosa raga, anche il portiere gioca Taylor, salviamo questo tipo di formazione, ci andiamo a giocare la partita contro il Wolf e raga, purtroppo era un avversario troppo difficile per noi raga, noi stiamo crescendo piano piano ma era un avversario troppo difficile, infatti il risultato non ci sorride per niente raga, pigliamo una batosta e una sveglia di 5 gol, non ti scherza, una sveglia di 5 gol, dobbiamo migliorare pesantemente se vogliamo cercare di arrivare in Premier o in serie superiori a quelle in cui siamo adesso, che siamo nel League One, siamo nel League One, dobbiamo puntare alla Premiership, alla Championship e poi alla Premier League se non sbaglio, dovrebbe essere questa la scala. Abbiamo ricevuto un'offerta del trasferimento per McKinley, ma non se ne parla proprio, McKinley ce lo teniamo bello stretto, il nostro uomo di difesa, il nostro portiere, il nostro capitano futuro, tutto è venduto raga, questa è la notizia che mi ha fatto tanto male, tanto male, infatti manco l'ho letta, sono andato velocemente avanti, però mi ha fatto male, perché tutto è effettivamente, mi è dispiaciuto averlo venduto raga, forse farò un sondaggio un giorno di questi, per riportarlo ai gamberetti, per riportarlo tra noi, la nostra mascotte, il nostro uomo simbolo, come nel Venezia abbiamo Padelli che è il nostro portafortuna, in futuro riporteremo anche tutte come portafortuna mascotte di questa squadra. Va bene, noi intanto stiamo andando avanti con le giornate, ok, siamo arrivati al 28 agosto, offerta per il trasferimento di chi? Non me lo ricordo, chi è? Perché mi sono fermato? Offerta per il trasferimento? Maullo, sveglia, offerta per il trasferimento? Giocatori, interessati per le nazionali, ok, direttore generale, niente, no no, offerta per il trasferimento per Hamilton, se vogliono comprare Hamilton, no, noi abbiamo qua lo Stana che avevano vista che fa due lavori e secondo te lo andiamo a vendere, dai Hamilton che ci porti pure il mondiale del Formula 1, perché sia chiaro, io tifo Ferrari, raga, per chi sta guardando questo video, io tifo Ferrari, quindi tutto il bene del mondo a Hamilton, a Mercedes, complimenti a loro, ma io tifo Ferrari. Detto questo ragazzoli, che stiamo a fare? Ah, stiamo controllando la formazione, raga, perché abbiamo venduto tutte, abbiamo venduto tutte e quindi se non sbaglio, in questo preciso istante ci andiamo a prendere quel giovane camerunense che abbiamo trovato nello scorso episodio, ovvero 6-2 Amponsa, Amponsa, che con il nostro baffetto, il nostro baffetto si avrà solo nominato baffetto, Amponsa, baffetto, che così siamo normalmente coperti al centrocampo, abbiamo 4 centrocampisti centrali che ricambieremo nelle varie situazioni. In tutto questo andiamo anche a mettere in prestito Taylor, perché vedete che è in condizioni pessime, ha appena giocato, ha preso 5 sveglie dal Wolf e vuole cambiare aria e noi l'accontentiamo molto volentieri, l'abbiamo messo sul mercato in prestito, sperando di riuscire a piazzarlo prima della fine del mercato. In tutto questo stiamo rimettendo i nostri unici titolari che si sono riposati, giustamente mentre quelli prendevano 5 sberle loro erano al bar che si facevano all'aperitivo, però va bene, loro erano al bar che si facevano all'aperitivo, però l'obiettivo era questo, far riposare i nostri unici titolari, far sarcagnare di legnate praticamente i panchinari, praticamente sono andati al fronte senza armi, proprio così allo sbaraglio. Rimettiamo il nostro portiere titolare che è McKinley for Retailor, sistemiamo anche un attimino la panchina, che vedete c'è un Ponsac che è in riserva, non mi ricordo se me lo porto, no, non me lo porto, non me lo porto, ok. Detto questo scendiamo in campo per l'ultima partita del video contro il Bolton, che ci fanno contro il Bolton? Loro viene da una vittoria contro il Colchester, io spero di leggere i giusti risultati raga perché sono ciecato, che ci fanno noi? Vinciamo 2 a 1, bella così, gol di Raid e di Morris, 2 a 1 per il mio amore camber, per i nostri camberetti che fanno 3 su 3 raga, 3 su 3, da qui il motivo del nome di questo video, del titolo di questo video, 3 su 3 signori miei, abbiamo fatto 3 vittorie su 3 in campionato, cioè da scrivere sul calendario raga, da scrivere sul calendario anche perché io so cosa succede nel prossimo episodio e dico sognatevi queste 3 vittorie sul calendario perché sono già belle e importanti, facciamo gli allenamenti prima di chiudere il video, chi stiamo ad allenare? I difensori, no, non mi è piaciuto, dai centrocampisti, perfetto, alleniamo i centrocampisti e simuliamo tutto, o meno male, stanno salendo, stanno salendo i nostri centrocampisti, stanno guadagnando punticini, bella così, bella così, andiamo avanti, andiamo sul calendario, se non sbaglio ci fermiamo il 31, no, che sto a fare? Dove sto andando? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ah sì, forse faccio la pulizia delle giovanili raga, sì, 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 perché è vero, perché negli allenamenti prima ce la diamo a moto, che sì, ho fatto un attimo di pulizia fra le giovanili raga, ho ottenuto solamente quelli effettivamente promettenti e che hanno un nuovo roll di 60 di partenza e un buon potenziale, quindi ho cacciato tutti quelli con un potenziale comunque entro l'88, che non è ciò che ci serve raga, cerchiamo i 90 noi, e che hanno un valore di partenza diciamo non troppo basso, non troppo basso, anche Alvarez c'ha un buon potenziale, Yamamoto purtroppo ci salutano, c'ha un nuovo roll di 81 forse, non riesco a leggere, e parte da un 48, no, un 58, non è la più palle di idea, non riesco a leggere raga, comunque abbiamo fatto un attimo di pulizia che sinceramente ci vuole, ci vuole, non possiamo tenerli tutti raga, dobbiamo costruire una buona rosa ma non li possiamo ottenere tutti, anche lui, è stato un piacere, ciao, abbiamo ottenuto solamente loro tre che secondo me sono il futuro buono della nostra primavera. Detto questo, se non ricordo male chi è che si lamentava? Taylor, che è contento che lo mandiamo in prestito, anche noi Taylor, se qualcuno dovesse inirti ci portiamo con la carriola direttamente, così te ne vai e non rompi più le maro, e Raid, che è contento della prestazione, sono contento anch'io per te, siamo tutti contenti, alleluia. Detto questo ragazzoli, io se non sbaglio avanzo fino al 31 di agosto e mi fermo prima della chiusura del mercato, infatti. Detto questo ragazzoli, io vi ringrazio per aver guardato questo video, scusate per l'imprevisto dell'audio, spero comunque vi siete divertiti a guardare questo video sottotitolato, no, ridoppiato praticamente. Detto questo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!